dunque, vediamo adesso come prendere questo sgormietto di casa e farlo vedere in OpenSim prima però vedremo, facciamo una piccola cosa cioè ci mettiamo delle texture le texture che ci mettiamo le andiamo a prendere da, dunque dovremmo averci ed è qui abbiamo fondamentalmente alcune texture che sono queste che sono fondamentalmente dei mattoni questi mattoni li vogliamo applicare a questa casa allora, la cosa che faremo è molto semplice e cioè prenderemo questo facciamolo così prendiamo un UV Image Editor che è questo e ci faremo, selezionando tutto una unwrap con lo Smart UV Project vedete che ci ha messo la casa un po' essendo low poly e ci sono tutti i muri che sono abbastanza interessanti ci adattiamo qui le varie immagini le varie immagini abbiamo visto ma ne basta una in realtà per fare tutto il nostro giochino quindi prendiamo ad esempio il Brick Diffuse questo e quindi lo no, non l'ho preso facciamo il Brick Diffuse ok? e vedete che con questo UV Map se andiamo a vedere il materiale magari Rendered ah ok vedete che non ci fa ancora vedere il materiale perché dobbiamo fare il giro che abbiamo detto quindi questo materiale in sintesi gli mettiamo una texture che questa c'è già e qui ci mettiamo il diffuse il diffuse e ci mettiamo UV UV Map perché è quello V Map che abbiamo fatto prima e nel tipo della texture gli mettiamo Image or Movie e poi la agganciamo così ok vedete che adesso non è proprio una texturizzazione fantastica ma se io seleziono tutto e poi faccio un S10 per esempio ecco così S10 ho moltiplicato per 10 quindi invio e quindi abbiamo un un esempio di texturizzazione plausibile ok allora una volta fatta la casa così quindi avendo fatto l'UV Map avendo visto che ha un minimo di credibilità andiamo soltanto verificare le dimensioni di questa casa quindi in Object Mode quindi la scala 1 a 1 facciamola un pochino no se no facciamo direttamente la selezioniamo Materiale facciamo scala 10 quindi facciamo diventare bella grossa vedete che si vede dentro quindi è abitabile dentro perché c'è la luce dentro eventualmente si può vedere anche fuori con la luce fuori facciamola giusto così prendiamo la lampada Shift D e ce la portiamo anche fuori vedete così illumina anche da fuori ora non sto qui a fare tutto il giro del della Normal Map e della Specular ma non è necessario nel senso che poi su Second Life la Specular e la Normal la aggiungeremo senza dover fare tutto il giro che abbiamo visto nei video precedenti no? quindi l'unica cosa che adesso ah qui tra l'altro mi è scappata diffusa ok tornato quindi esportiamo finalmente questa 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 specie di insomma di rudere quindi allora abbiamo detto che siamo in Material per esportarlo selezioniamo l'oggetto facciamo File Export collada e qui facciamo Casa Abitabile per esempio facciamo 3 perché prima ho fatto un po' di export diversi Casa Abitabile 3 e gli diciamo di Second Life Open Sim Static e andrebbe bene così nel senso che la esportiamo come Casa Abitabile 3 se vogliamo fare coraggiosi potremmo anche provare a includere i materiali ma non è che ci creda molto che lo faccia quindi facciamo Export collada e quindi Casa Abitabile 3 ce l'abbiamo messa a posto andiamo dentro Open Sim vedete che qua siamo in Open Sim e proviamo qui a importare Casa Abitabile 3 quindi cosa facciamo Word Anzi Build Upload Mesh Model e qui abbiamo Casa Abitabile 3 facciamo Open Ok e direi che non l'ha presa tanto quindi abbiamo probabilmente sbagliato qualcosa torniamo un attimo qua andiamo soltanto quindi questo File Export Collada Casa Abitabile facciamo questo punto 4 infatti vedete che era molto piccolo probabilmente avevo selezionato solo la luce avevo esportato la luce Casa Abitabile 4 dovrebbe a questo punto esportare qualcosa di meglio torniamo di qua da noi riproviamo Upload Mesh Model Casa Abitabile 4 vedete che è un pochino più grosso quindi 24k apriamo e vedete che a questo punto ci ha fatto vedere la casa se facciamo Textures dovrebbe farci vedere anche la texture con cui è stata texturizzata e forse c'è anche la possibilità adesso quindi di include Textures e dovrebbe portarsi anche la texture io preferisco sempre portarmi le texture separatamente Casa Abitabile chiamiamola 4 ok qui abbiate cura di vedere che quando è vicina la vedete così quando è media vedete che si deturpa parecchio e quindi gli diciamo Use Load Above per vederla abbastanza benino quando è lontanina conviene conviene in realtà mettere tutti Use Load Above cioè quando avete pochi vertici così potrebbe ancora convenire quando ci saranno parecchi vertici nell'ordine delle decinaia di migliaia questo modo è sconsigliato eventualmente vi farò vedere un'alternativa ma comunque proviamola così allora facciamo Calculate Weight and Fees e poi facciamo l'Upload quindi abbiamo Casa Abitabile 4 che abbiamo effettivamente qui Recent Casa Abitabile 4 vedete che mi ha tirato su anche la texture a cui era collegata quindi in questo caso è andato bene prendiamo la Casa Abitabile 4 e la rezziamo e vedete che sono entrato dentro questa casa già con la sua texture ma l'idea è quella di metterci anche la Normal Map che qui ce l'ho già quindi per semplicità andiamo sulla la texture ce l'abbiamo già la Bumpiness dobbiamo metterci la Normal Map e nella Normal Map eccola qua che l'avevo scaricata prima e vedete che avendo messo la Normal Map ha fatto una leggera differenza e gli mettiamo anche la Specular Map in realtà ho già visto che più o meno si vedono leggermente anche se non molto ma la cosa fondamentale è che questa casa che abbiamo appena rezzato è diventata diciamo abitabile nel senso che dentro abbiamo fatto la porta sono entrato le pareti vedete che collidono non mi fa andare e poi le aperture che abbiamo fatto vedete che qui c'è un'apertura qui in fondo quindi se volo posso andare al secondo piano e poi eventualmente anche al terzo piano adesso qui non si vede un granché ma l'idea in fondo è che effettivamente ho una casa seppure di mattoni seppure molto brutta che ha le caratteristiche di abitabilità richiesta da poi sulla texturizzazione ovviamente l'ho fatta molto molto semplice per per fare questo video ah ok questa questa casa era messa perché ne avevo già rizzate altre di casette qui faremo un villaggio eventualmente volevo soltanto prima di andare via farvi vedere che in realtà sembra che non si veda tutto questo discorso di normal mapping eccetera ma se guardate un po' l'effetto allora questa casa sulla sinistra ha le normal map e la specular map e quella sulla destra ha soltanto la diffuse quindi la cosa che notavo è che se vi avvicinate e prendete una sorgente di luce e la fate muovere vedete che la sorgente di luce mentre si muove produce delle ombre che sono controllate dalla normal map i riflessi sono più o meno realistici se lo stesso effetto lo facciamo girare qua vedete che non ho quel tipo di riflessione nel senso che si vede un po' la riflessione ma non si vedono le riflessioni nelle scanalature mettiamo un po' più di vicino se necessario così eventualmente se volete fare anche voi questo giochetto potete dirmi se riuscite a capire la differenza vedete che qua non si vede mentre invece se la stessa pallina la facciamo girare qua vedete che fa le ombre molto più carine se aveste difficoltà a fare questa luce che si muove forse ve l'ho già fatto vedere basta creare una sfera colore bianco la texture gli mettete una texture blank cioè vuota e poi nelle features gli ho messo light che emette luce si potrebbe anche fargli mettere luce colorata giallina ah no però la riflessione è sempre ah si un pochino giallina è diventata comunque il tutto dovrebbe a questo punto essere chiaro come rendere abitabile la nostra casa con la tecnica che vi ho fatto vedere del solidify altre tecniche sono state accennate da altri partecipanti ed eventualmente se necessario le proveremo a vedere a me pare che questa sia fra le tutte una delle più immediate e fattibile diciamo con non troppo sforzo l'acqua 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 l'acqua